Verso il distretto del restauro, un'arte antica ma sempre attuale. Questo potremmo dire è l'assenso della presentazione avvenuta oggi a Mida all'interno dello stand di Camera di Commercio di Firenze, il progetto Firenze Città del Restauro. L'obiettivo di questo interessante progetto è quello di arrivare alla creazione di un vero e proprio distretto che rafforzerà e valorizzerà, come detto, l'antica tradizione del restauro toscano. Andiamo a sentire. Di noi innanzitutto vorrei specificare come Camera di Commercio siamo un partner storico della Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze. Dal 1931 una delle più antiche fiere nazionali e internazionali dell'artigianato in Italia. Quest'anno nell'ambito della Mostra dell'Artigianato abbiamo voluto dedicare uno spazio proprio specialistico sul restauro. Il restauro è un'arte, una tradizione antica in terra di Firenze ma in Toscana in generale che si connota anche con applicazioni di tecnologie innovativissime in questa epoca. È un distretto importante, sono 250 le aziende del restauro che a titolo principale operano in provincia di Firenze e 2.500 sono ulteriori aziende che si occupano di restauro di patrimonio immobiliare nel territorio dell'area metropolitana. Sono aziende che hanno una dimensione internazionale importante perché le commesse internazionali cercano questa nicchia di mercato e proprio per questo abbiamo voluto presentare in questi giorni questo portale Firenze città del restauro dove il piccolo artigiano, l'impresa di restauro può entrare in contatto con la grande committenza nazionale e internazionale. La genesi viene dall'impegno di quattro associazioni, CNA, Confartigianato, Confindustria e Lega Coop che tra i progetti strategici per il territorio hanno individuato proprio il settore del restauro. Non è un caso che sia i rappresentanti di artigiani, di imprese più strutturate e meno, di professionisti del settore si siano trovati tutti insieme unitariamente su questo progetto proprio perché evidentemente ha un forte impatto nell'economia e nel sistema imprenditoriale del territorio. Sì, devo dire che dobbiamo dare atto a Firenze che ha dato questo primo seme, questa prima idea importantissima al quale ovviamente tutto il sistema toscano ambisce anche a poter contribuire perché crediamo che un settore così importante molto volte non conosciuto perché l'obiettivo principale è quello anche dell'emersione di un settore così specializzato e così importante per la manutenzione e la cura del patrimonio.